Volete sentire in anteprima il nuovo disco di Daniele Silvestri? Vi assicuro che si può fare, basta andare su Team Music Amici di Team Music, questa è una occasione straordinaria perché è una prima fatta con un artista italiano che ha un po' di tempo che si faceva piano con un nuovo album e noi ce l'ascoltiamo appunto prima di tutti e no, l'artista di Inesimo, siete benvenuti, grazie